Il grand stand è stato il teatro delle semifinali appena concluse col pubblico, che ha apprezzato entrambe le gare concluse dopo sei set molto combattuti. Alla finale accede la coppia spagnola composta da Marc e Feliciano Lopez, che ha eliminato i gemelli Bob e Mike Briani quali, nonostante il sostegno del pubblico neviorchese, hanno dovuto cedere il passo agli iberici in tre set dopo essersi aggiudicati il primo. Nello stesso modo è arrivata la vittoria del duo Roger TKU, che ha eliminato in tre combattuti set i favoriti numeri 1 Continent Pairs. Venerdì alle OR 18 italiane, sull'Arturache, si disputerà la finale per il titolo come antipasto delle semifinali del singolare maschile, in programma a partire dalle 22.